Allora, buonasera a tutti ragazzi, anche questa sera video flash molto molto rapido, parliamo dell'evento musicale della giornata, se così si può dire chiaramente, parliamo dell'abbandono almeno momentaneo di Zay Malik dagli One Direction, anzi dai One Direction come tutti dicono e non ho ben capito mai il perché. Comunque sia, Zay Malik ha abbandonato temporaneamente gli One Direction perché sarebbe molto stressato, questo è quanto detto da Simon Cowell nel suo account Credo Facebook o Twitter ufficiale e lasciando chiaramente le Directioner di tutto il mondo sconvolte, scandalizzate, che cosa starà succedendo? Allora, in realtà è credibile, è probabile, è umano che una persona possa stancarsi a un certo punto di continuare ad andare in giro per il mondo e del fatto di essere stressati, insomma possiamo esserne vittime tutti e questo potrebbe dimostrare che anche le superstar come Zay Malik che fanno parte di un gruppo che fa miliardi, scusate non miliardi, milioni di dollari all'anno, insomma si debba anche un attimo rilassare. Però ci sono alcune voci che dicono, a quanto pare, che in realtà, allora i più maligni dicono che ci sarebbero dei problemi di droga alle spalle, quindi Zay Malik sarebbe in procinto di sottoporzione a rehab, questa notizia era già, gira già da qualche tempo perché Zay Malik già da qualche tempo appunto non si era fatto vedere a determinate occasioni, per esempio quando in One Direction hanno vinto l'MTV, non mi ricordo se era l'MTV Video Music Award o uno degli Europe Award, MTV Europe Music Awards, comunque sia, gli Europe se non sbaglio, comunque sia non si era presentato e tutti e dove è finito, cosa sarà successo, appunto è già lì e avevano iniziato a partire queste voci, che si sono fatte mano a mano un po' più pesanti, più importanti, appunto quando anche un commentatore, un conduttore televisione americano, durante, poco dopo la performance di One Direction, ha chiesto loro che fine avesse fatto Zay Malik e se per caso fosse vero che avesse avuto dei problemi con delle sostanze non del tutto lecite, ecco così, questa era un po' la perifrasi che lui aveva utilizzato. In parallelo si racconta anche che lui sia particolarmente stressato da una sorta di relazione amorosa che sembra che stia andando molto male, si diceva che lui avesse tradito la ragazza e quindi alla fine pare che appunto fosse particolarmente colpito, stressato da questa situazione di gossip spicciolo. Niente, questa è la notizia, fatemi sapere se siete Directioner, se siete ad ascolto, cosa ne pensate e qual è la vostra più nel riguardo, io vi mando un bacio e vi auguro una buona serata.